I biglietti di Bari-Milan vanno a ruba e non siete riusciti a trovare il prezioso tagliando per il big match contro i rossoneri? Nessun problema. Anche stavolta, come è accaduto in occasione delle gare con Juve e Inter, ci pensa Antena Sud. Stasera, nella puntata di Assist, l'approfondimento sportivo condotto da Giuseppe Pace e Max Sisto, saranno messi in palio due biglietti di tribuna per vivere da vicino il posticipo contro i Diavoli in programma domenica al San Nicola. Partecipare al gioco è facile, ma servirà aprire bene le orecchie e fare molta attenzione alle indicazioni che la nostra Ilaria Turi vi darà nel corso della trasmissione. Vincerà chi avrà seguito Assist e sarà il più veloce di tutti a dare la risposta giusta. Appuntamento dunque a stasera alle 21 su Antena Sud e vinca il migliore. Due biglietti per Bari-Milan vi aspettano.